Al nuovo sindaco ovviamente ci rivolgiamo, sicuramente già in questi giorni ci stiamo preoccupando di chiedere un incontro con il nuovo sindaco appunto per fare il punto della situazione sul porto di Tremestieri. In questi anni come organizzazione sindacale ci siamo sempre battuti perché il cantiere era fermo, i lavori sono fermi sotto del 25%, non registriamo nessun tipo di movimento e quindi non ci vorremmo trovare nelle stesse condizioni per come ci siamo trovati con la giunta De Luca. Quindi l'appello al nuovo sindaco è che prenda in mano in modo concreto, serio e determinato questi lavori perché questa è un'infrastruttura che la città non si può permettere di perdere. Voi avete lanciato un'altra allarme dicendo che c'è il rischio che si possa arrivare addirittura alla rescissione del contratto. È una visione alla vostra allarmistica o si basa comunque su degli elementi? No, si basano su degli elementi perché abbiamo studiato, abbiamo contattato sia il RUP per quanto riguarda l'ingegnere Leotta del comune di Messina il quale ci ha confermato questa grande problematica e quindi noi abbiamo sempre denunciato queste cose, però con la vecchia amministrazione come ho detto poc'anzi, con la vecchia amministrazione siamo stati sempre tacciati per colori uguali, dicevano cose che non stavano né in cielo né in terra. Purtroppo oggi non solo noi che dicevamo la verità ma anche la città prende atto che questa può essere l'ennesima incompiuta. Il primo obiettivo è completare l'opera, in realtà un porto deve essere già consegnato secondo il cronoprogramma e poi ci sarà un altro aspetto di non poco conto, inserire tre mestieri in una visione strategica anche nel contesto della portualità della nostra città. Sì, questo fa parte anche dei progetti che il Presidente dell'autorità portuale sta portando a termine per quanto riguarda la riqualificazione di tutto quello che riguarda i voti e fronte e questo è il punto fondamentale, tutto parte appunto dal porto di tre mestieri. Quindi noi auspichiamo che la nuova amministrazione, o diciamo la pulita, il nuovo sindaco possa attenzionare in modo determinato questo aspetto perché dà lì parte lo sviluppo della città di Messina.